Grazie al salutatore, direttamente dal primo maggio, festa culture del primo maggio, sotto la bioggia, ma noi ci siamo qui. Ci siamo, CharlieOdds, non so che punto it, vi aspettiamo. Ecco qui, seguitelo, ci saranno delle sorprese e io ti do la manina del salutatore. Lo fanno dei do it. Ecco qui, ciao. Bella regaz.